Allora, è venuto a trovarci Emilio Fede, buongiorno. Salve. Che succede col Cavaliere? Non vi sentite più? Non la chiamano? Non vi vedete? C'è stata ultimamente una mezza litigata. Questa è una domanda che molti si pongono. È una domanda interessante. Ma dopo un periodo lungo... Ma è molto tempo che vi conoscete? Di amicizia vera. È una vita che siamo amici. Tale era e tale rimane. Dio, se mi manca! Può il premier di un paese, quello che rappresenta l'Italia all'estero, avere questo tipo di vita? Ma andemi questo, sta ben, sta in zocco. Rubi non l'ho invitato io ad Arcore. Certa gente non si deve più invitare. A me mi fa impressione pensare che la Bocassini dice che il sistema è fatto da te. Ma guarda che può essere vero. La Minetti e l'Ele Mora. Beh, ma sarà capito? Io me ne ho raccorta da un pezzo. La Bocassini dice, essendo così legato a Berlusconi... Ma allora siete proprio amici, amici, amici. Non può non aver detto a Berlusconi, attento che una mirorene. Beh, amici, nel senso che lui, povera, c'è un fatto che chiamarmi. Io con lei non ho scambiato neanche una telefonata. Al telefono non gli avrei dato due lire. Le versioni di Rubi sono strane. Ah, sonoate giù, dice un sacco di fregnacce. Che io ero andato a prenderla con la mia macchina. Ma potevo piar Porsche? Ci sono le versioni di varie ragazze. Chissà tu quante donne ci avrai avuto. Arrivavano a pulmo anche queste ragazze qui. Più che donne sono state avventure, episodi. Questa è Orgia. Pure Orgia fa sto cornuto. Se lui poi restava da solo con qualcuno a fare i suoi. Mondrillo da niente, eh. Quante cazzate si possono vedere al telefono? Sapessi quante, cazzo? Non dire altro.